Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. A Firenze è chiuso Lungarno Diaz, tra Piazza Mentana e Ponte Alle Grazie, per una fuga di gas. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!